Pavia è una delle province con il tasso più alto di mortalità in Italia per tumore. Prima, in questa triste classifica, ci sono soltanto Lodi, Napoli e Bergamo. È quanto emerso da uno studio svolto da alcune fra le più autorevoli università italiane che hanno preso in esame i dati del decennio fra il 2009 e il 2018 con l'obiettivo di dimostrare una correlazione fra inquinamento ambientale e mortalità a lungo termine. I risultati pubblicati sulla rivista Science of the Total Environment hanno confermato in modo inoppugnabile questa tendenza. La mortalità per tumore supera la media nazionale, soprattutto dove l'inquinamento ambientale è più elevato e viene mitigata poco o niente dal fatto di vivere in zone in cui le abitudini di vita sono più sane. Ma purtroppo ci siamo fatti quell'idea che dà una conferma di quello che è un quadro che temavamo essere in queste condizioni e che era comunque anche in buona parte conosciuto. C'è il caso chiaramente che è eclatante, che è quello di Broni, cioè quello collegato all'ex fibronite e quindi a tutti i tumori da mesotelioma che derivano da quella che era la fabbrica dell'Eternit. Ma abbiamo anche una diffusione territoriale che è per lo meno preoccupante perché comunque conferma, soprattutto nella fascia coltivata a viti e poi nella zona dell'Arisa e della Lomellina, che l'uso negli anni scorsi, negli decenni scorsi, di sostanze chimiche in maniera massiccia ha comportato comunque una recrudescenza dei tumori. Stabilire che ci sia una connessione ormai è un dato di fatto. Poi l'incidenza vera e propria nello sviluppo del tumore è chiaramente un qualcosa che lasciamo agli accademici, ma ci limitiamo come legambiente a vedere che sul territorio in queste zone abbiamo comunque un'incidenza di tumore che è molto ma molto più alta che in altre zone della stessa provincia. Al di là del caso limite di Broni, dove la correlazione fra esposizione all'amianto e tumore specifico è talmente evidente da non suscitare alcuna sorpresa, le cause all'origine della malattia sono più sfumate, anche se non per questo meno pericolose in altri casi. Nello studio gli esperti hanno preso in considerazione 35 fonti ambientali di inquinamento come industrie, pesticidi, inceneritori, traffico automobilistico, rilevando che alla fine tra queste la qualità dell'aria è il primo posto per importanza per quanto riguarda l'associazione col tasso medio di mortalità per cancro, come ha spiegato Roberto Cazzola Gatti, professore del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell'Università di Bologna.